ciao amici come dite i datteri sono nel periodo natalizio ma no provateli così non potrete più farne a meno nelle giuste quantità attivano il metabolismo e danno energia quindi la ricetta di oggi si può dire brucia grassi ideale come sfizio anche se state già seguendo una vostra dieta se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco come si prepara datteri ripieni tofu e noci ricetta vegana per due persone 4 datteri morbidi 40 grammi di tofu al naturale due grilli di noce la scorza di mezzo limone la scorza di mezza arancia quanto basta di marsala e quanto basta di polvere di zenzero tempo di preparazione circa 10 minuti 1 preparazione dei datteri tagliate i quattro datteri a metà togliete il nocciolo e disponete le otto parti su un piatto da portata spolverate l'interno con un pizzico di polvere di zenzero 2 preparazione del tofu frullate il tofu con le scorze di arancia e limone e un goccio di marsala fino a ottenere una crema 3 farcitura farcite i datteri con la crema di tofu 4 presentazione decorate ogni dattero con mezzo gheriglio di noce se volete potete lasciare in freezer per qualche minuto oppure servire subito per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche proprietà degli ingredienti principali i suoi pregi principali energia e leggerezza i datteri sono un frutto energetico ricco di fibre vitamine e minerali tra cui ferro alleviano le infiammazioni il nome deriva dal termine greco dactulos cioè dito che richiama la tipica forma allungata di questo frutto esotico i datteri in arabo sono vero cibo per i viaggiatori secondo i beduini del deserto si può vivere per anni di soli datteri e acqua secondo la iurveda sono energizzanti in caso di stanchezza e anche utili per i disturbi di colon e stomaco il tofu è ricco di proteine vegetali è energetico facilmente digeribile e contiene pochi grassi e carboidrati l'arancia contiene pochissime calorie ed è l'ideale quando si vuole perdere peso ricca di vitamina c è un potente antiossidante il limone purifica e disintossica l'organismo è un antiossidante che riduce il colesterolo inoltre svolge un'azione antibatterica le noci sostengono il metabolismo aiutano a perdere grasso a favore della crescita muscolare sono amiche della salute delle ossa lo zenzero facilita la digestione contrasta la pancia gonfia oltre ad attivare il metabolismo e avere proprietà brucia grassi e ora buoni datteri a tutti se mangi consapevole vivi meglio